Ucraina e Russia hanno raggiunto un tendenziale accordo sul transito del gas russo verso l'Europa in vista dell'imminente scadenza. Circa il 18% del consumo annuo di gas naturale dell'Unione Europea proviene dalla Russia attraverso l'Ucraina, pressata dai funzionari dell'Unione stessa ai fini di un negoziato finalizzato all'accordo. Dopo un incontro assai intenso, dice il vicepresidente della Commissione Europea, Sefkovic, sono molto felice di dire che abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi chiave. È una notizia positiva per la Russia, l'Ucraina, il mercato del gas e tutti i cittadini europei. Improntate ad una diplomatica soddisfazione anche le dichiarazioni di Vladimir Putin. Ci impegneremo affinché l'Ucraina sia contenta di questo accordo, dice. Non c'è motivo di aggravare la situazione nel settore energetico. Continueremo a transitare attraverso l'Ucraina. Per la Russia le tariffe volute dall'Ucraina per far transitare gas dal suo territorio erano troppo alte. Mosca e Kiev erano impegnate nelle trattative immediate dall'Unione sin dal luglio 2018.